bentornati su fantasy riders allora questo video sarà un po diverso dal solito per un semplice motivo fino a 20 minuti fa avevo registrato l'episodio ero arrivato alla bellezza di 20 25 minuti di spacchettamento vado per salvarlo e non me lo salva quindi i pacchetti sono già stati spacchettati quelli tutti questi che vedete sono mazzetti da 6 quindi il contenuto di ogni pacchetto che ho di fatto per fortuna avevo salvato senza intaccarne il contenuto e nel senso che avevo fatto ogni pacchetto avevo messo diciamo i mazzetti così praticamente e quindi li ho rigirati io so già che carte contengono e se li fa da cavo avevo fatto anche un piccolo schemino qua che come vedete ci sono già le carte segnate che purtroppo ho segnato quindi vabbè senza che ve lo nascondo quindi ci sono carte mancanti da 27 carte a 13 carte e quindi 13 mancanti ad oggi adesso mi rifaccio tutto il video in maniera un po inusuale lo capisco però capito il mio cellulare strombolo e quindi ha deciso di darmi questo impedimento quindi prendiamo cominciamo senza perderci in chiacchiere ulteriori allora allora ecco alla mamma mia meccanico ma senza che ve li leggo neanche titanio fortuna però ce l'ho già anche quella ce l'ho ora riconsolerò al volo così le metto da parte quelle che non c'ho 58 segnate ok e di queste mi pare di averle tutte quante sono un bel po' avvilito devo essere onesto ero tutto quanto contento ho pure comprato il peristallo per il cellulare in offerta su amazon però visto che già un video non me lo ha salvato sto bastardo a sto giro ho detto no io non mi voglio arrendere mo io lo mostro così e va per così allora 222 114 questo manco lo controllo perché so già di averceli serpeggiante e la spada sacra io e poi che bello secondo pacchetto palazzo della tecnologia meccanico 277 infatti ce l'ho già una l'altra l'altra secondo titanio che però ovviamente ho già quindi va bene così poi 290 niente e un'altra spada quarto pacchetto drago bot ipocampo 126 al momento nessuna questa per esempio avevo il dubbio ho il dubbio di non avercela però la non l'ho segnata perché c'è 126 e 158 però io la metto da parte perché poi voglio controllare bene e poi necropoli paladino 218 194 234 196 l'armatura abbiamo vista mille volte è un altro 222 altro pacchetto serpente dorato 130 ce l'ho 81 ce l'ho 278 ce l'ho 288 ce l'ho 288 e la 1 poi rettritone rettritone 263 334 con mano bene gin che era la 91 170 170 quello che metto sulla sinistra le ho già quindi ve le faccio solo vedere di sfuggita però di fatto allora ecco mi sembra che questa fosse una delle nuove che avevo trovato la 371 infatti non ce l'avevo poi alto elfo la 110 è un'altra alto elfo la 110 è un'altra una acciaio e ce l'ho che fortunello eh poi 153 meccanico rider ce l'ho già poi 274 e mi mancava delfino e infine ipocampo 266 e mi mancava anche questa in un certo senso un acciaio che già c'avevo i due normali che non avevo quindi un pacchetto ghiotto è anche un po' deludente allora cerbero ce l'ho già che cavolo sto combinando ah perchè l'ho messa con la faccia rivolta vabbè 241 307 384 il ballo della congrega e 51 poi spostiamoci qua così si è liberato un po' di spazio drago di ghiaccio e ce l'ho serpeggiante ce l'ho guerrero rider 161 ce l'ho scimmia gigante ce l'ho laboratorio magico e poi scorpione gigante 340 e ce l'ho pipistello gigante 193 e mi mancava serpeggiante serpeggiante 158 mi mancava poi 224 paladino rider ce l'ho già serpeggiante cerpeggiante guerrero rider fatto che lo metto a fuoco mi dà un fastidio guardate 162 ce l'ho già poi 302 mi mancava in cubo e poi anche questa 181 mi mancava stregone mi mancava no sto dicendo una cazzata non mi mancava poi la 55 invece si ed eccolo qua cavallo bot ci hanno fatto le guerre per questa carta chi la trova chi non la trova chi ne ha 5 copie chi non ne ha mezza copia insomma questa è la secret carta del gioco altro che l'acciaio e il titanio e io l'ho trovata meno male uff poi golem 366 ma ce l'ho già poi 314 ce l'ho già poi la 20 mi mancava cyber elf quanto sono brutti cyber elf e poi questo scorpione gigante pure mi mancava la 341 si poi Pegaso 229 e che non ho cioè che ce l'ho l'unicorno 121 ce l'ho scilla liner 279 ce l'ho necromant rider pure 297 tempio sommerso e scarabio meccanico ora un momentino che tolgo le doppie da in mezzo i gabasisi così faccio un poco di spazio un attimo eh scusatemi ok ok mancano ancora 1 2 3 4 5 una decina di pacchetti dai dai non perdiamo tempo vorrei allora sanatori Pegaso quando non lo metto a fuoco io veramente mi da fastidio mamma mia poi eh 260 mi mancava poi anche questa mi mancava la 44 poi abbiamo kelpie manco ve lo so di e punica protettiva che pensavo in mancasse invece no infatti ci è rimasto un po' tipo ma no peccato poi corona di corallo 282 ce l'ho sto coso bruttissimo ce l'ho cyber elfo quello di prima mancava questo ce l'ho però il campo e 161 ce l'ho e esploratore rider poi altro pacchetto tele cinesi il 33 ce l'ho e ragno gigante la 184 poi abbiamo un altro golem e forte abbandonato 215 che ho già poi abbiamo oh questa qua ho il dubbio specchio arcano di avercela 100 io infatti la metto da parte penso di averla già però non sono affatto sicuro dalle mancoliste pare di avercela già e la 381 che invece non avevo poi quasi fatto manca troppo allora diavoletto è la 310 e non ce l'avevo cioè ce l'avevo scusate è stato certo la brutta la 60 e meno male che ce l'avevo poi 80 saggio rider se anche questo giorno mi sa il video lancio il cellulare 188 incremento a sinistra vuol dire che le ho guarigione e questa qua poi 231 pegaso lavoratore arcano kreiker scusate devo stare utile bene bene arpia si si e i garuda poi 294 ce l'avevo già si serpente dorato li ho tutti e 3 cavaliere spettrale rider la 305 che ho già oh il drago ne ho 5 di sti cosi basta laboratorio magico e tempio sommerso altro pacchetto saggio strega manco li sto più controllando perchè mi ricordo benissimo di averli manticora stregone rider la 188 intanto potrei avere qualche dubbio l'idra ce l'ho e dragolic ce l'ho poi ultimi 5 pacchetti abbiamo tauma turgola 3 e vai serpente dorato 197 387 c'entra sempre il 7 scimmia gigante che tanto gigante non è e poi esploratore ultimi 4 pacchetti 70 e ce l'ho già drago di ghiaccio scimmia gigante manticora meccanico che è la 147 e cerchio di pietre e cerchio di pietre che è la 144 ultimi 3 pacchetti andiamo guarigione meccanico e viverna 357 leviatano una carta una carta si è suicidata detto basta questo scempio e dragobot ultimi 2 pacchetti alcereale 112 e ce l'ho unicorno 123 e ce l'ho che cosa sei tu 79 ce l'ho stricone rider vabbè attenzione questo ce l'abbiamo e poi questo sciamano la 46 ultimo pacchetto allora dra lupo che dorme la sfinge 207 207 scorpione incantesimo di crescita e infine lo scorpione gigante del prima vabbè ho finito ora li controllo un attimo che siano tutte al massimo faccio un piccolo controllino veloce spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like bla 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 ora mi auguro che sarebbe il video se no mi arrabbio